Jessica Muzzi, centrale di una Lucky Win Granfruttato Trevi che riesce a stupire nel finale di campionato. C'è una bella vittoria contro la terza in classifica, quel macerata che occupa l'ultimo posto per i play-off. Si rialzano le quotazioni di Trevi. Sì, ci abbiamo creduto fino alla fine. È stata una bella partita anche all'andata, è stata molto bella. Noi ci crediamo ancora, quindi abbiamo ancora questi stimoli. È stato bello a giocarla, anche perché quest'anno ho giocato un pochino meno. Quindi, no, è una bella soddisfazione. È un campionato che in casa sicuramente vede un Trevi con un altro passo. Per migliorare in trasferta che cosa bisogna fare adesso? No, vabbè, abbiamo avuto alti e bassi. Sicuramente lavorare, lavorare tanto. Ci sono qualcosina da aggiustare, quindi adesso ci penserà il mister Tardioli. Che cosa ti è piaciuto oggi della tua squadra in particolare? No, quella grinta. Poi c'erano le ragazze con gli occhi della tigre, no? I soliti occhi della tigre. Mi sono divertita, perché poi io sono una che mi piace esultare, mi piace divertirmi soprattutto. Quindi questo è stata una bella soddisfazione. L'ho vista proprio cariche. Grazie. 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 Grazie.